Veniva dal bagno! Ma che... E' questo? Ma che diavolo? What the hell? C-c-c-somebody in there? I wonder if I can go out this way. Tuvo disco rego lungo un metro. Non molto potente, ma abbastanza facile da usare. Eccolo? Che cosa c'è? Speriamo che sia la via d'uscita... Anche se l'aria si fa sempre più pesante, ma io non capisco perché. Grazie a tutti. 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 E' terribile quello che stanno facendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gizzi, è tutto ok? Ehi, ma dove sei? Un altro buco. Dove porterà questo strano buco? sono tornato nel mio appartamento? che dire? che cosa? un altro sogno? ma sembra così real o cosa può essere? era veramente un sogno di quella donna? un altro sogno? questo è proprio stupido cosa ho pensato? eh? questi mobili sono qui da quando traslocato eh? che strano qualcuno l'ha spostato chi può averlo fatto? c'è una pistola per terra? eh? ma Ellen eh? Ah, c'è lì. Ah, c'è lì, c'è lì.